Ciao a tutti, sono Massimiliano, ringrazio dell'invito e mi piace parlare oggi di Derrida, dirvi qualcosa di Derrida, uno dei filosofi più noti del ventesimo secolo, morto nel 2004, esattamente vent'anni fa. A lui è legato il nome della corrente filosofica chiamata decostruzionismo. Però come mia abitudine, in realtà, il mio interesse non è innanzitutto quello di presentare Derrida, presentare il suo pensiero, ma leggere qualcosa di Derrida per provare a pensare io, noi, in prima persona. Partendo dal presupposto che a mio avviso questa è la filosofia, non tanto una storia della filosofia, un manuale di filosofia, quanto piuttosto un leggere passi di filosofi per poter fare filosofia al presente, per così dire. Derrida, dicevo, è legato al nome di decostruzionismo, la parola già un po' particolare, noi siamo abituati a dire costruire, non decostruire, un'espressione che significa, appunto, andare a smontare, come se noi con il Lego andiamo a costruire un edificio e poi ci divertiamo a smontarla, a smontare i mattoncini. È un'operazione strana perché, in genere, noi siamo interessati a costruire, non a smontare. E invece la filosofia, o meglio, l'umano, per Derrida, si conserva nella misura in cui impariamo a decostruire, più che costruire. Che cosa può voler dire? L'espressione decostruzionismo, tra l'altro, a me personalmente, fa venire subito in mente, per libera associazione, una bella espressione che si trova nel libro del profeta Isaia, nella Bibbia, dove l'espressione è costruttori di rovine. È una delle definizioni degli israeliti, del resto di israeli, chiamato a costruire le rovine, a ricostruire le rovine. Allora sembrerebbe un qualcosa di opposto, no? Qui Isaia invita a costruire sulle rovine, lì Derrida invita a decostruire ciò che è già eventualmente costruito. Però a mio avviso c'è un'affinità profonda, perché nell'espressione di Isaia quel costruttore di rovine può anche alludere al fatto che la nostra condizione umana è di avere sempre e solo a che fare con rovine da costruire, da ricostruire. Quasi che, e questa è la domanda, non possiamo mai superare questo stadio. Non possiamo mai in realtà andare oltre all'opera di costruzione a partire da rovine, come un po' una costruzione che non finisce mai di essere allo stadio iniziale. E in questo senso in fondo Derrida invita a recuperare questa verità, cioè a dirci che l'impressione di aver già costruito è un'illusione. Anzi, più che un'illusione è qualcosa forse ancora peggio, di mortifero. Abitare un mondo costruito è mortifero, si tratta di imparare ad abitare un mondo sempre da costruire. Ecco allora che la decostruzione serve a ritornare a quello stadio autentico che ci permette di essere umani, costruttori di rovine. Ma su cose magari anche un po' confuse che proverò a sciogliere un pochino, e parto da un'espressione. Come in me solito dobbiamo leggere brevissime espressioni del filosofo e costruirci. In fondo le espressioni sono le rovine. Ecco, direi che io ho a che fare con rovine, in questo caso di Derrida, di scampoli di Derrida. Nella convinzione, questo proverò a spiegarlo meglio alla fine, che in realtà, per fortuna, abbiamo sempre a che fare solo con tracce, con scampoli, con rovine. Allora, uno scampolo, una rovina di Derrida recita. Questi passi che vi leggo sono tratti da una delle opere più note che si intitola Della grammatologia. Ovviamente è una parola che si è inventato lui. Grammatologia, poi cercherò di spiegare che significa. Recita. Il sapere aspira a riappropriarsi della presenza. L'espressione credenza, a mio avviso in filosofia, i testi più riusciti sono quelli che riescono a coniugare la concettualità, a cui è molto concettuale ogni parola, sapere, presenza, riappropriarsi, a coniugare la concettualità con una certa poeticità, cioè con un'espressione breve che in quanto tale riesce a condensare e proprio per questo essere evocativa. Allora, che vuol dire il sapere aspira a riappropriarsi della presenza. Il sapere. L'uomo è l'animale, questo l'ha detto Aristotele in maniera definitiva, l'uomo è quell'animale caratterizzato dal vivere il mondo spinto dal desiderio di sapere. Io sto al mondo e voglio conoscere. La filosofia non è altro che una delle tante forme attraverso le quali noi viviamo il nostro stare al mondo sapendo, perseguendo il sapere. Ora, che cos'è però il sapere? Il sapere dice aspirazione, desiderio, anelito. Il sapere aspira a riappropriarsi della presenza. C'è una presenza che evidentemente abbiamo perso. Dobbiamo riappropriarci di quello che abbiamo perduto. Che cos'è che abbiamo perduto la presenza? Che vuol dire? Facciamo un esempio facile facile, almeno dal mio punto di vista. Io voglio sapere la filosofia di Derrida. Che faccio? Prendo un libro di Derrida, per esempio della grammatologia. E lo comincio a leggere. E quando è che io so Derrida? Quando è che io conosco Derrida? Quando è che io capisco questo testo? Quando mi riapproprio della sua presenza. Della presenza di chi? Di Derrida. Il libro in fondo è la traccia di un'assenza. L'assenza di chi? Dell'autore. Se c'è un libro, è perché quel libro è stato scritto da un autore che ahimè non c'è. Non è qui presente. Anche perché se fosse qui presente Derrida ovviamente non leggeremmo il suo libro. Ci metteremmo a parlare con lui, ci metteremmo ad ascoltarlo. Piccola parentesi. È interessante che all'origine della filosofia si pone tra gli altri quel Socrate che ebbe tra le altre la caratteristica di non scrivere nulla. Egli preferì la sola oralità alla scrittura. Preferì la sola presenza a quella forma particolare di assenza che è la scrittura. Ma torniamo a Derrida. Io leggo il libro, leggo il libro della grammatologia. Quando è che arrivo a capirlo, a saperlo? Quando mi riapproprio della presenza. Cioè è chiaro, non è che posso rifar tornare Derrida in vita. Però in qualche modo io capisco quel libro nella misura in cui mi riapproprio del pensiero di Derrida, dell'intenzione con il quale l'autore ha scritto quel libro. E allora è vero che questo anelito al sapere, che ci caratterizza, è anelito a recuperare presenze perdute, significati perduti. Questo è abbastanza direi evidente nel caso di lettura di qualunque libro. Qui ci troviamo in una bellissima libreria. E la libreria è una raccolta di tracce, una raccolta di assenze che chiedono di essere prese in mano, aperte, lette, affinché quell'assenza si trasformi in presenza. E questo è il sapere. Nella misura in cui arrivo a capire il libro, non devo più leggerlo, magari, perché ormai quell'assenza è divenuta una presenza e come quel tassello vuoto è stato riempito. Magari cerchiamo di ritrovare un altro tassello. E poche righe dopo Derrida spiega allora che questo sapere, il sapere che aspira a riappropriarsi della presenza, è un sapere che afferma il fonocentrismo, di contro alla grammatologia. Che cos'è il fonocentrismo? Altra espressione che si è inventato Derrida per dire la centralità, il focus, sta nel fono, nella fone, che in greco significa voce, nell'oralità, dicevamo prima. Cioè questo sapere che aspira a riappropriarsi di una presenza è un sapere che presuppone che la verità coincida con la voce orale dell'autore. Se appunto avessimo qui Derrida sarebbe il massimo, perché potremmo ascoltare dalla sua viva voce. Noi in fondo non viviamo di questa nostalgia. Io studio Platone a, se potessi parlare con lui, se potessi assistere a una sua lezione. Oppure per un credente cristiano io leggo il Vangelo a, se avessi avuto la fortuna di stare insieme a quei discepoli e vivere con lui, ascoltarlo, sarebbe tutta un'altra cosa. Noi vogliamo risalire alla fonè, nella certezza, nella persuasione che questa fonè, questa viva voce contenga la verità. Ebbene, in realtà, Derrida contrappone al fonocentrismo la grammatologia. Per lui il sapere è un'altra cosa. Tra poco cercheremo di capire che cosa, però intuitivamente che cos'è grammatologia. È formata da gramma. Gramma in greco significa lettera, lettera scritta. È il contrario della fonè. La fonè è la viva voce, il gramma è la lettera scritta. Ebbene, per Derrida, dicevamo all'inizio, si tratta di decostruire, non di costruire. Potremmo parafrasare adesso. Per Derrida non si tratta di risalire alla presenza, alla voce, all'oralità. Si tratta di rimanere nel gramma, nella lettera scritta. Intanto, però, ritorniamo ancora brevemente sul significato di quella concezione del sapere, che direi condivisa dalla maggior parte di noi, sapere significa risalire a quello che l'autore intendeva dire. Che cosa ha veramente detto Derrida? Scrive ancora Derrida, la verità, il significato, l'intenzione, è la cancellatura del significante nella voce. Guardate che belle espressioni. La cancellatura del significante nella voce, cioè c'è il significante e la pagina scritta. Il significante vuol dire le lettere. Viene cancellata per risalire alla voce, alla fonè. Appunto il fonocentrismo. Io leggo un libro qualunque, leggere un libro qualunque significa sperare di poter cancellare quella scrittura e risalire alla presenza dell'autore, o se leggo un romanzo, magari entrare nel mondo dell'avventura del romanzo che sto leggendo. Da questo punto di vista, scrive ancora Derrida, la scrittura è una caduta. Cioè presuppone un vertice nel quale ci trovavamo e da cui siamo caduti. Presuppone, usando ancora un'immagine biblica in senso molto lato, un paradiso perduto, un Eden. È come se, dicevo prima, beati quei discepoli che stavano con Gesù, beati quei discepoli che stavano con Platone o con Socrate. Quello è il vertice, la vetta, il paradiso, che però, ahimè, abbiamo perduto. E non ci restano che grammata, che lettere scritte, che libri, che parlano di loro. La scrittura è la perdita, è il segno di una perdita. In fondo potremmo dire, se io amo una persona e le scrivo una lettera, vuol dire che ahimè non sto con quella persona, magari siamo distanti, siamo separati, e allora devo scriverti. E la scrittura è il sintomo di una perdita. Della perdita di che cosa? Del contatto, della relazione. Piccola divagazione. Non è questo che Derrida dice della scrittura, la scrittura è una caduta. Non vale in fondo allora per il linguaggio in generale. Non potremmo dire che le parole sono la caduta, la perdita del contatto, del bacio. Quando parlo vuol dire che non ci capiamo. Quando ci siamo capiti, quando c'è comunione, quando c'è intesa, non c'è più bisogno delle parole. Allora anche in questo senso, parafrasando Derrida, potremmo dire che le parole in generale sono una caduta. Una caduta dal contatto, dalla comunione, dall'intesa. Ultimo frammento di questa prima parte che raccolgo da Derrida, il significato è l'anima. La scrittura è il corpo. Beh, se espressioni come grammatologia sono cugnate, invenzioni di Derrida, queste no, queste sono immagini tra le più classiche. Corpo e anima. La filosofia di Platone gioca su questo dualismo. C'è il corpo e c'è l'anima. Io, in quanto umano, sono un corpo, ma un corpo animato. E la mia anima non è il corpo. Anzi, dice Platone, l'anima è rinchiusa, come in un'ostrica, nel corpo. E, dice Derrida, il significato, la verità, è l'anima. La scrittura è il corpo. Molto platonicamente, dal suo punto di vista, la scrittura è quel corpo dal quale dobbiamo liberarci. L'anima è quella verità che, una volta raggiunta, non ha più bisogno del corpo. Non ha più bisogno dei libri. Non ha più bisogno della scrittura. Dicevo prima, non ha più bisogno di parole. Allora, ecco, ricapitolando questa prima fase, il sapere lo intendiamo come un desiderio di riappropriarci di una presenza perduta. Il sapere è l'attenzione a recuperare quel paradiso perduto che è la comunione, che è l'intesa, che è la presenza, che è il significato. Ma questo è il fonocentrismo. E quindi Derrida non è d'accordo, ovviamente. Derrida ritiene che questa comprensione del sapere come risalita a una presenza sia quello che nel novecento è stato chiamato genericamente ideologia. Cioè una prigione. Una prigione che ci asfissia, ci toglie il respiro, ci toglie la vita, ci toglie l'intelligenza, la vitalità. Perché? Perché a questo punto Derrida introduce un termine chiave per lui. Traccia. Che cos'è la traccia? Orma. La traccia, l'orma, è quella che gli animali lasciano in un bosco o in qualunque luogo come segno del loro passaggio. A me piace fare trekking, vado in giro per il bosco, posso individuare un'orma, una traccia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello è un segno, segno, scrittura, gramma, lettera. Lui dà la gramma, passa la traccia. Ma la lettera, la lettera scritta, è un segno. Il segno è sempre rinvio ad altro. La scrittura, dicevamo, rinvia l'intenzione dell'autore, rinvia la presenza dell'autore. Così l'orma, la traccia, rinvia l'animale che è passato. Ancora una volta, è ovvio che nella nostra esperienza se c'è una traccia è perché c'è un animale vivente. E allora il cacciatore, in questo senso l'uomo assetato di sapere è un cacciatore. Il cacciatore è colui che vede l'orma e allora insegue l'animale vivente. E il cacciatore ovviamente non è interessato all'orma, è interessato all'animale, a poterlo scovare nella sua presenza viva e a me, in quel caso, ucciderlo. E però ragiona Derrida, ragiona, provoca. Noi siamo convinti che le prime tracce della storia umana sono quelle tracce, quei graffiti, quelle primitive forme di scrittura che non erano ovviamente una scrittura alfabetica ma ideografica, erano delle immagini, che testimoniano di qualche umano che aveva in mente qualcosa e lo ha espresso. Vedete, c'è sempre un significato che ho in mente, una presenza, quella dell'uomo preistorico che poi lascia la sua traccia. Ebbene, qual è la provocazione di Derrida? Che l'origine è quella che lui chiama un'architraccia. Arch in greco archè vuol dire origine, principio, cioè, detto molto più semplicemente, la tesi di Derrida è che la traccia sia originaria. Ci sia una traccia senza uomo primitivo che l'abbia iscritta sulle pareti. Ci sia una scrittura senza autore. Ci sia una gramma, una lettera scritta senza voce che l'abbia preceduta. noi pensiamo sempre alla scrittura come la trascrizione di una voce se non di una voce almeno di un pensiero ma il pensiero è quella voce dentro di noi e quindi noi siamo convinti che ci sia prima la voce che poi viene messa per iscritto e la scrittura è quella traccia che se io imparo a decifrarla mi riconduce alla voce, al significato. Qual è la provocazione di Derrida? No, questo è un errore prospettico è un'illusione. La verità è che il sapere la vita umana l'universo originariamente è una traccia senza voce senza presenza come è possibile. Potremmo dire e questo lo dice poi un'altra immagine che usa Derrida in queste pagine potremmo anche dire che il paradosso di una traccia senza animali di una traccia che è stata lasciata da nessun animale la traccia precede il passaggio dell'animale capite? La scrittura del libro precede il pensiero dell'autore questo paradosso può essere anche detto e Derrida lo fa con il paradosso di un figlio senza padre come facciamo a essere figli se non abbiamo un padre? Non è che non abbiamo un padre è che il padre però è originariamente cioè da sempre perduto è questo il mito uno dei miti fondatori della cultura occidentale quello di Odisseo di Ulisse che in greco appunto è Odisseus un nome che foneticamente assomiglia a Udeis che in greco significa nessuno ed è il nome che è Odisseo nell'Odissea che è Ulisse nell'Odissea grida a Polifemo dopo averla accecato quando il povero Polifemo ha accecato si lamenta dicendo ma chi è che ha fatto questo e Odisseo già in salvo sulla sua imbarcazione risponde nessuno è il suo nome Ulisse gioca in greco dicendo che lui si chiama nessuno ma questa è la verità nella prospettiva di Derrida noi siamo Telemaco Telemaco è il nome del figlio di Ulisse quello che è rimasto a Itaca e che cerca il padre disperatamente dopo dieci anni d'assenza con i proci che attentano alla madre Penelope e Telemaco è il figlio il cui padre è nessuno c'è un padre sì ma questo padre è nessuno è un'origine perduta il mito del paradiso perduto sì perché mettiamo l'accento sul perduto non c'è mai stato un tempo in cui abbiamo abitato nel paradiso noi siamo strutturalmente provenienti da un paradiso che non abbiamo mai abitato che nessuno ha mai abitato figli di un padre che abbiamo fin dall'origine permanentemente perduto ora uno può dire sì ma tutta questa prospettiva non è disperante a che cosa porta dire che un libro non ha autori dire che siamo figli con un padre che è nessuno originariamente perduto è disperante e allora concludo facendo una mia libera declinazione applicazione di questa prospettiva che Derrida ha elaborato suggerito ponendo la questione di che significa leggere e capire un libro in generale di che significa capirsi tra di noi quando parliamo intenderci dicevo prima che le parole sono tracce come quelle lasciate degli animali usiamo un altro termine che a me piace di più le parole sono frammenti in che senso è nel senso che chi si occupa per esempio di filosofia antica ma anche medievale conosce bene spesso abbiamo a che fare con autori di cui possediamo solo frammenti e la situazione allora è un po' disperata in quei casi e devo studiare Parmenide bene peccato che abbiamo pochi frammenti allora devo cercare di ricostruire torniamo a quella ricostruzione iniziale il suo pensiero a partire da pochi frammenti che cosa sono i frammenti i frammenti sono il resto di un intero l'intero nel nostro caso il libro i frammenti sono gli avanzi le tracce ciò che è rimasto di un libro è andato perduto a me viene in mente come esempio narrativo per eccellenza di questa situazione il protagonista del nome della rosa il romanzo di Umberto Eco che alla fine si chiama Azzo il giovane religioso il quale alla fine del libro ritorna sul luogo del misfatto che è questo monastero in particolare la libreria del monastero dove si sono consumati i delitti sui quali tutto il romanzo si sviluppa e però torna a questo monastero a questa biblioteca che nel frattempo ecco si era finita tutta la vicenda degli omicidi è andata a fuoco e quindi una libreria una biblioteca ahimè è andata a fuoco ha perso tutto il suo patrimonio librario sono rimasti brandelli di libri lacerti di libri e che fa il protagonista folle del romanzo raccoglie questi frammenti se riporta nel suo monastero e per tutta la vita cercherà di ricostruire i libri a partire da questi frammenti un'impresa impossibile ovviamente come facciamo? come facciamo a ricostruire il pensiero di Parmenide senza avere se non qualche frammento? perché è possibile ricavare i frammenti dall'intero ma non il contrario soprattutto quando i frammenti sono pochi io prendo un vaso di porcellana che qui ce ne sono di bellissimi sono interi ovviamente lo lascio cadere a terra si rompe quelli sono i frammenti è complicato ricostruire l'intero dei frammenti ora se avessi tutti i frammenti con tanta pazienza abilità e pazienza e tempo forse ci riesco certo rimarrebbe non più l'intero come era primo perché? perché l'intero viene prima dei frammenti i frammenti vengono solo dopo che l'intero si è perduto questa è la nostra consapevolezza insomma il vaso non è fatto a partire da frammenti il vaso è tutto intero poi se si rompe ahimè abbiamo i frammenti è così che funziona anche il linguaggio io leggo un libro e questo libro dicevo all'inizio parlando di Derrida è un insieme di segni i grammata diceva Derrida di segni scritti di tracce di frammenti dico io immaginate proprio l'esperienza tante parole sono tanti frammenti che devo mettere insieme in modo tale che ricostruiscano quel vaso che ricostruiscano l'intero cioè capisca che cosa volesse dire questo libro che cosa volesse dire Derrida cosa presuppone questa visione presuppone che il libro dico io sia una sorta di baule un baule di contenuti e il nostro compito è andare a estrapolare questi contenuti che cosa ha detto questo libro questa poesia tipica domanda scolastica come se la poesia fosse un baule che contiene le sue verità io devo raccogliere una volta che l'ho raccolte basta ce le ho le possiedo quello che vogliamo definire il sapere in tasca pensare il sapere come un ritrovare questi contenuti nascosti in quel libro baule una volta che li possiedo li possiedo sono miei me li metto in tasca e li tiro fuori a piacimento è una concezione possibile del sapere dell'esperienza di lettura che a me non convince però perché faccio un altro esempio io devo incontrare una persona devo oggi fare questo video me lo preparo ovviamente c'è tutta la mia intenzione tutti i significati che ho deposti nella mia testa in un foglio scritto poi vengo qui o all'appuntamento con quella persona e comincio a parlare cosa sono le mie parole sono l'espressione cioè il tirar fuori quello che avevo dentro come se leggessi un libro in fondo no non è mai così e aggiungerei se fosse così sarebbe terribilmente noioso per dire qualcosa devo rischiare di dirlo al presente ora rischiare perché lo devo pensare adesso al presente cioè l'avventura della comunicazione non è l'espressione di un contenuto che avevo nel baule lo tiro fuori e te lo mostro e la creazione di qualcosa che ancora non c'era ma già c'era perché l'avevi già pensato ok lo devo ricreare solo così riesco a comunicare a ricreare questa è l'esperienza dell'autore o del parlante cioè il parlante non esprime mai dei contenuti già dati ma li crea in quel momento dirà che cosa a partire da quelle che non sono che frammenti che non sono che tracce rovine io nella mia testa ho una serie di frammenti di tracce di segni che devo ogni volta ricostruire in modo da dire qualche cosa e che succede in colui che mi ascolta o in colui che mi legge quello che mi ascolta e che mi legge riceve dei frammenti delle tracce che deve cercare di rimettere insieme affinché siano qualcosa di sensato o significativo per lui e come avviene questa ricostruzione ma allora forse si tratta solo di rimettere insieme pezzi del puzzle così da ricostruire il puzzle il vaso quel bel contenuto che stava nel baule e no perché in questa prospettiva il discrimine è che la comunicazione non è comunicazione di contenuti la filosofia non è un insieme di dottrine non è un insieme di concetti le dottrine i concetti non sono che segni non sono che vie tracce frammenti per che cosa per accendere un fuoco questa è l'esperienza della parola in generale questa è l'esperienza di un libro questa è l'esperienza di una comunicazione di un insegnamento di un rapporto umano questa è più genericamente l'esperienza della vita che significa vivere non fare raccolta di vasi da mettere nel mio baule ma tenere acceso il fuoco che cos'è il fuoco è difficile rispondere perché non è un che cos'è il fuoco non è un quid non è un oggetto il fuoco è l'esperienza di quella vita che è il vivente in fondo diceva all'inizio Derrida il sapere come aspirazione a riappropriarsi di una presenza io propongo no ma anche Derrida è d'accordo su questo il sapere non è riappropriarsi di una presenza il sapere è accendere fuochi riaccendere costantemente fuochi e come si accende il fuoco il fuoco si accende lo sanno bene gli scout facendo scoccare delle scintille su del materiale combustibile adatto qual è il materiale combustibile adatto? noi noi siamo quei legnetti fatti apposta per essere accesi perché siamo viventi e le pietre fucaie per far scoccare la scintilla sono le parole le parole non sono significanti non sono frammenti di un contenuto già dato sono pietre pietre che vanno frizionate tra di loro affinché ne scocchino scintille quelle che accendano quei legnetti che siamo noi che diventiamo una cosa viva che diventiamo relazioni vive comprensioni ed ecco allora che la cultura non è trasmissione di contenuti la scuola non è trasmissione di contenuti la cultura la scuola l'umano è accensione di fuochi se ci piace la parola trasmissione che in latino è tradizio tradizione è tradizione di un fuoco che va passato di mano in mano probabilmente gli uomini preistorici che scoprirono il fuoco siccome non sapevano accenderlo dovevano tenerlo acceso e quindi la loro cura era mantenere il fuoco acceso non farlo mai spengere e questo direi che è il senso della nostra esperienza umana raccogliere quei fuochi che la generazione precedente o i millenni precedenti ci hanno trasmesso e mantenerli accesi